Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati al Coraggio di ogni giorno, a queste pillole del Coraggio di ogni giorno. Coraggio che è anche quello di Giuseppe Cavaliere, che oggi abbiamo in collegamento da Foggia, Presidente Onorario della Fondazione Antiusura Bon Samaritano. Grazie Presidente per essere con noi, Presidente Onorario, attivo ormai da più di 25 anni con questa bella attività che è partita appunto più di 25 anni fa a Foggia. Grazie per essere con noi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Presidente, il tema dell'usura è strettamente connesso a quello della diffusione dei valori della cultura della legalità, del sano vivere civile, ed è un tema sempre più in espansione, soprattutto dopo questo periodo pandemico, dopo la crisi, che da crisi sanitaria è diventata anche crisi economica e sociale. Quanto è importante oggi, soprattutto per un imprenditore, per un cittadino, denunciare e soprattutto chiedere assistenza ad enti come appunto la Fondazione Antiusura Bon Samaritano? Guardi, il discorso è abbastanza semplice. Provo a sintetizzarlo. Uno dei motivi fondamentali per cui a questo meraviglioso territorio che è la provincia di Foggia, un territorio che ha delle potenzialità straordinarie, noi potremmo tranquillamente essere una delle province più ricche dell'Italia. Questa possibilità è preclusa da una presenza sin troppo ingombrante della criminalità, del malaffare, della corruzione. Purtroppo siamo noti alle croniche nazionali e internazionali. Giorni fa addirittura la CNN, la nota emittente americana, ha parlato ahimè di Foggia come un territorio preda della quarta mafia. Ora, devo dire che in questi ultimi anni, dopo quel maledetto 9 agosto 2017, quando furono ammazzati due vittime innocenti, i fratelli Luciani, la situazione qui è radicalmente cambiata. Lo Stato è presente in modo molto molto efficace e sta operando con una grandissima determinazione. Però ciò non basta, ma non perché lo Stato non sia adeguato a fronteggiare questa situazione. Perché, voglio ricordare, vedevo prima scorrere delle immagini, Paolo Borsellino. Ricordo che Paolo Borsellino, sapete il 19 luglio, cioè l'anniversario del trentennale della morte, della sua uccisione, ricordava come la lotta alla criminalità, cui lei faceva riferimento, non è un qualcosa che può essere demandata esclusivamente allo Stato, ma deve essere portata avanti, deve essere combattuta attraverso una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale che coinvolga soprattutto i giovani, i soggetti più propensi, diceva Paolo Borsellino, a respirare il fresco profumo della libertà e a respingere il puzzo del compromesso. Alla sua domanda rispondo, concludo questa prima riflessione. I cittadini possono dare il loro contributo denunciando. È fondamentale la denuncia. I cittadini, gli imprenditori soprattutto, devono decidere da che parte stare. Io mi rendo conto che molte volte può essere anche conveniente sottostare alla richiesta del pizzo, alla richiesta di estorsione, ma così facendo noi non ne veniamo fuori. Ultimamente c'è stata una bellissima manifestazione. Noi come Fondazione Bonsamaritano, insieme a Libera e all'Associazione Anti-Racket, abbiamo voluto esprimere a nostra solidarietà un imprenditore, Lazzaro D'Aurio, che ha avuto il coraggio di ribellarsi e di respingere il ricatto mafioso. Quindi alla sua domanda i cittadini possono e devono collaborare con lo Stato con la denuncia. Tra l'altro, lo diciamo, anche per tutti i telespettatori e le telespettatrici che ci seguono, possono comunque anche vedere quelle che sono le attività della Fondazione Anti-Racket Bonsamaritano. C'è un sito web, chiedo anche alla regia di inviarlo, è www.bonsamaritano.com, ci sono anche tutti i vostri contatti. Prima anche comunque di salutarci, un'altra veloce considerazione. Oggi chi denuncia, chi decide da che parte stare, sa che può contare su associazioni, su fondazioni come quella Anti-Racket Bonsamaritano, che nel momento in cui poi ne esistono i presupposti, si costituiscono anche parti cilie nei processi. Cosa vuol dire questo? Sì, lei ha toccato un tasto anche molto molto importante. Voglio evidenziare così velocemente due aspetti. Uno, noi finora abbiamo assistito oltre 4 mila famiglie, ma non vittime di usura. Erano famiglie a rischio usura. Abbiamo elargito oltre 15 milioni di euro a queste famiglie bisognose con dei prestiti a tassi agevolati, ma soprattutto le abbiamo aiutate allorquando erano vittime di usura, costituendoci parte civile. Noi le abbiamo accompagnate nel percorso della denuncia. Abbiamo messo a loro disposizione gli avvocati civilisti e penalisti. Eravamo presenti nelle aule di tribunale allorquando i criminali, gli usurari venivano condannati e devo dire che finora sulle 23-24 denunce che abbiamo fatto c'è stato sempre la conclusione del processo con la condanna degli imputati alle pene di giustizia. Ecco perché denunciare conviene. Ma c'è anche un altro aspetto ancora più importante. Io dal mese di settembre ho avuto l'onore del tutto inaspettato di essere nominato dal Ministro dell'Interno, dal Ministro Lamorgese, componente del Comitato di Solidarietà delle Vittime di Usura e Distorsione, ossia quel comitato che valuta i riconoscimenti economici, i rimborsi, le indennità che devono essere riconosciute a chi denuncia di essere stato vittima di o riusura o di estorsione. Alle persone che mi ascoltano voglio evidenziare questo dato. Nell'anno 2021 noi abbiamo erogato circa 22 milioni di euro a persone che hanno denunciato. Nei primi mesi del 2022 abbiamo già erogato circa 6 milioni di euro. Ecco perché denunciare conviene. Anche per un fatto pratico, per un fatto economico, tu ritorni in possesso, recuperi le somme che hai dovuto pagare come interessi usurari o le estorsioni, il pizzo che hai dovuto pagare, ma anche ti vengono riconosciuti i danni conseguenti al fatto di essere stato vittima dell'uno o dell'altro reato. Ma soprattutto ti liberi del ricatto mafioso, ti liberi dell'oppressione di questo reato. Voglio ricordare velocemente che ai tempi del Medioevo il reato di usura era condannato, perseguito, oltre al fatto perché si chiedevano interessi di gran lunga superiore a qualecito, perché era considerato furto del tempo. Cioè che cosa significa? Che significa che quando una persona cadeva nel tranello dell'usuraio, diventava vittima, perdeva cognizione col tempo, la disperazione, lo stato di disperazione, di prostrazione in cui veniva a cadere, viveva in un mondo avulso. Furto del tempo veniva considerato. Questo è lo stato psicologico in cui si viene a trovare la vittima, la persona vittima di usura. Grazie, grazie Presidente. Speriamo in realtà che questa testimonianza possa essere importante, soprattutto possa essere un modello per tutti quei cittadini, anche magari spesso in situazioni di difficoltà, e che in quella che poi idealmente identifichiamo come partita tra Stato e antistato, sappiano decidere con coraggio da che parte stare. Grazie ancora per essere stato con noi, e noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.